che giornata di merda amici di football is my life ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi video sul fantacalcio come è andata il fantacalcio come è andata la giornata del fantacalcio dell'ancona calcio 2003 2004 è stata una giornata di merda è stata una giornata di merda una giornata in cui veramente non è che ti mangi solo le mani ti mangi anche le palle ti mangi anche le palle ancora calcio che perde 1 a 0 contro il mutismo fc ma la cosa più fastidiosa la cosa più fastidiosa è che abbiamo perso totalizzando 65 punti e mezzo contro il mio avversario che ne ha totalizzati 67 vi faccio vedere spero che si lega si so che scrivo con le zampe di gallina però la giornata è stata questa andiamo subito a vedere il punteggio delle due squadre partiamo dal mio avversario mutismo fc che ha totalizzato 67 punti megnan 3 meno 3 per le tre pere che ha subito kim 6 e mezzo biraghi 6 milenkovich 6 rabiot 7 e mezzo assist ma è stato anche ammonito zaccagni 10 e mezzo per il gol di fatto il mutismo fc ha vinto la partita grazie al gol di zaccagni ben nasser 5 e mezzo tonali 4 e mezzo meno mezzo punto per l'ammunizione arnautovic 6 nzola 5 e mezzo l'orienti e 6 e mezzo l'ancona calcio invece ha totalizzato 65 punti e mezzo musso 5 meno 1 per il gol subito baschirotto 6 e mezzo dodò 6 e mezzo scalvini 6 e mezzo romagnoli 6 e mezzo meno mezzo punto per l'ammunizione e 1 pessina 5 e mezzo meno mezzo punto per l'ammunizione e 2 barack 6 bairami 6 dessers 5 e mezzo meno mezzo punto per l'ammunizione e 3 pinamonti 5 e mezzo tammi e bram 6 3 ammoniti 3 ammoniti noi siamo sempre dei poveri stronzi che prendiamo almeno 3 4 cartellini gialli a partita se anche uno solo di questi non si fosse fatto ammonire avrei pareggiato comunque andando poi a vedere i risultati delle altre partite vittoria a tavolino del crimine fc 3 a 0 contro il big tetta pig che non ha schierato la formazione qua è inutile che mi dilunghi pareggio poi nel testa coda tra ac dolattico e gli amici di piazza per la squadra di mio fratello assist di nuiting che però è stato anche ammonito doppietta poi del solito osy man ac dolattico che è stato penalizzato dalle scelte del suo fantallenatore che ha tenuto in panchina zielinski che ha fornito un assist e deron che ha segnato dall'altra parte per il clown team clean sheet di meret assist di candreva e gol di beto e kostic e infine poi pesantissima vittoria del pombio fc per 3 a 2 contro la yajax brazzorf per il pombio fc clean sheet di terra ciano assist di success gol di dia e doppietta di gabbiadini dall'altra parte invece assist di udogi anderson e ciuria oltre che poi i gol di faraoni e berardi dando poi un occhio alla classifica sempre più primo il mutismo fc con 41 punti sorpasso al secondo posto del crimine fc che sale a 39 superando di 1 la c dolattico terzo con 38 dal terzo al quarto posto troviamo poi una spaccatura quarto la yajax brazzorf con 33 quinto il big tetta pig con 32 meno un punto perché nell'ultima giornata non ha schierato la formazione sesto pombio fc con 26 noi poveri stronzi sempre penultimi con 22 punti con gli amici di piazza che sono lì a meno un punto da noi va bene ragazzi questo è stato un po riassunto della mia giornata del fantacalcio fatemi sapere cosa ne pensate ditemi se giocate al fantacalcio qual è la vostra squadra come state andando io come al solito mi invito a scrivere il canale youtube a seguirmi su facebook a seguirmi su instagram a seguirmi su tiktok a lasciare un commento lasciarmi piace a spammare questo video in ogni singolo punto del piano mi spero detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi